Wilm, lecco alla raccolta un 2019 in chiaroscuro per l'economia. Come è andata invece Enrico Azzaro per il vostro sindacato? Un sindacato in crescita. Finalmente siamo arrivati al traguardo di 1.500 iscritti, che era un traguardo impensabile quando abbiamo fatto rinascere la nostra organizzazione nel 2014. Abbiamo ottenuto dei successi importanti in termini di elezioni RSU. Siamo il primo sindacato in assoluto all'IHI con 3 RSU su 6. Abbiamo vinto pochi giorni fa la Catra, SPA, una delle realtà del settore automotive che va alla grande cresce. Abbiamo ottenuto un risultato impensabile in un'azienda dove pur i numeri fossero importanti in termini di lavoratori, il sindacato organizzato non c'era, ovvero la GICAR. FIM e FIOM e WIM si sono presentate alla ricerca dei candidati, noi abbiamo trovato quattro candidati, le altre organizzazioni nulla. Questo io penso che qualcosa possa anche significare. Il nostro modo di comunicare, il nostro modo di porci alle problematiche, dove non è semplice dare soluzioni all'impresa e tantomeno dare risposte esaustive ai lavoratori. Coniugare le esigenze e le rivendicazioni è molto complesso, soprattutto in un periodo come adesso che il rallentamento, come dire, un po' si riscontra. Non sono pessimista, come qualcuno dice, non siamo ancora usciti dalla crisi. Ci sono imprese che anche nel momento peggiore della crisi non hanno mai fatto un'ora di cassa integrazione. Io penso che lo sviluppo di un'impresa possa essere nella ricerca, negli investimenti e nel rintercettare il mercato. Chi si ferma alla semplice lavorazione del fil di ferro, per tutto rispetto, è destinato a fare una fine che scompare nel mercato del lavoro. Quali sono?